Siamo sulle colline di Bordighera, questa villa alle nostre spalle che storia ha? Questa villa è la villa costruita dai fratelli Pellegrino, ovvero la famiglia imparentata ai Barillaro e la cui appartenenza a un contesto andranghetista è stato ormai definitivamente conclamato da una sentenza della Cassazione che conferma quella di appello di Genova in cui vengono confiscati tutti i beni e viene dichiarata la loro pericolosità sociale. Questa villa è uno dei beni che sono stati confiscati, il principale bene che è stato confiscato alla famiglia Pellegrino, Pellegrino Roberto, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio e rispettive ovviamente consorti, Balleraro Nadia, la moglie di Barillaro Giovanni e Pepe Lucia figlia del boss Pepe Benito, moglie di Maurizio e diciamo che è una storia che va avanti dal 2011 quando la DIA ha richiesto il provvedimento di sequestro confisca, approvato dal Tribunale d'Imperia, confermato dalla Corte d'Appello, annullato su istanza della difesa in Cassazione con rinvio in appello, quindi giudizio definitivo d'appello confermato dalla Cassazione. Quando lo liberate, la villa confiscata? Si può cipare io? Ah perfetto! E come devo fare? Purtroppo... Sgomberà, l'andrangheta deve restituire quello che ha sottratto, è certo, è certo, l'andrangheta. Pazienza, l'andrangheta io penso non ce ne sia. Come no? Questa villa fa parte di circa 10 milioni di beni confiscati complessivamente ai Pellegrino, che è la famiglia che aveva condizionato e condizionava, ad esempio, la pubblica amministrazione di Bordighera, motivo per cui si arrivò allo scioglimento dell'amministrazione Bosio. E qui stiamo parlando dell'operazione La Svolta. Ancora prima del processo La Svolta, il comune di Bordighera venne fatto oggetto di un'indagine amministrativa con una commissione d'accesso prefettizia e poi il conseguente scioglimento e commissariamento. Annullato successivamente in sede di giustizia amministrativa non perché mancassero i fatti, ma perché vi era una divergenza tra l'opinione del prefetto di allora di Menna e quella espressa dal ministro con lo scioglimento. Quindi un vizio di forma, non di sostanza. Annullò lo scioglimento. Tanto è vero che la recente sentenza d'appello confermata dalla Cassazione, ad esempio, sottolinea il comportamento degli assessori di allora Sferrazza e soprattutto Ugo Ingenito che ritrattarono in sede di dibattimento in meto alle minacce subite dai Pellegrino Barillaro, Pellegrino Giovanni e Barillaro Francesco. Parliamo di Ugo Ingenito, il papà dell'attuale sindaco nio eletto. Il padre dell'attuale sindaco nio eletto ritrattò la sua testimonianza in tribunale favorendo di fatto il Pellegrino Barillaro, dicendo che lui non si sentiva intimidito quando invece una visita a domicilio per chiedergli conto del suo voto di una riunione non ufficiale, informale di giunta, era chiaramente intimidatore soprattutto quando gli è stato chiesto se aveva qualcosa di personale contro la loro famiglia. Essendo una famiglia già nota alle cronache e a Bordighera per aver ospitato un latitante dell'Andrangheta per traffici di armi, per traffici di droga, diciamo che era evidente. Lui ritrattò e quindi si vide anche contestato dalla procura di Sanremo la falsa testimonianza. Il figlio oggi è il nio sindaco, non ha mai condannato questo atteggiamento omertoso del padre, ex assessore di Bordighera, così come non ha assolutamente condannato la partecipazione di un consigliere comunale, neoeletto, già agente della Polizia Municipale di Ventimiglia, Valtessoriento, ai funerali del boss andranghetista Giuseppe Marcianò e il saluto al figlio andranghetista, pure lui condannato, Vincenzo Marcianò, classe 77. In più, nella stessa maggioranza, vi sono due consiglieri neoeletti che sono stati appoggiati, come ha dichiarato apertamente un ex assessore di Bordighera, Andrea Chio Pino, che al secolo XIX rispondeva con orgoglio, quasi rivendicando, la sua conoscenza con i Marcianò e il fatto che lui era al funerale abbacciato Vincenzo Marcianò. Come nella stessa maggioranza, vi è un consigliere comunale che, ancora due anni fa, lo ha confermato, nonostante lui l'abbia negato, lo ha confermato Pepe Lucia, moglie di Maurizio Pellegrino, figlia di Pepe Benito, e questo consigliere Ramon, due anni fa, venne a una cena dai Pellegrini e portò anche il gelato. Siamo con calma, che sono brave persone. A pranzo a cena ci andava lei, no? Ci andava? No, ci andava lei. L'abbiamo contato prima al consigliere Ramon, quello che veniva a cena da voi, che aveva portato il gelato. Quello che veniva a cena da noi? Sì, perché... Ramon, esatto, una volta era venuto. Sì, esatto. Lì abbiamo detto che secondo noi non si devono salutare i soggetti legati alla camina organizzata. E venite una sera a mangiare qui con noi. Quindi non sono brave persone, Pepe Lucia? Io non lo so, sono persone che... Hanno confiscato tutti i beni. Ho capito. Quindi vuol dire che non avrà più rapporti con loro? Ma io non ce l'ho a dire alle consigliere. No, no, io non ho rapporti con nessuno. Allora, come può un consiglio aeree comunale andare ai funerali, frequentare, avere rapporti con famiglie di Andrangheta come quelle di Marcianò, avere rapporti di amicizia, non vado a cena così per caso, con una famiglia in cui contesto andranghetista è, ripeto, notorio pubblicamente, ora conclamato dalle misure di prevenzione adottate in via definitiva dalla Cassazione. Come si può avere un sindaco che tace su tutto questo? Questa è la situazione di Bordighiera dopo la parentesi dello scioglimento. Oggi il problema, il problema Andrangheta, i problemi dei rapporti con soggetti legati alla chiamamento organizzata, quando non addirittura appartenenti, vengono fortunatamente sollevati dalle opposizioni. Lo stesso Pallanca ha fatto un'interrogazione. Esatto, quelle di sinistra e quelle di centrodestra. Il problema è la comunità che dovrebbe reagire, che invece non reagisce, rimane china, rimane acquiescente. E se la comunità non reagisce, possono arrivare tutte le condanne, tutte le confisca che si vuole, ma il consenso sociale, l'Andrangheta in questo caso continuerà ad averlo. Quando invece l'unico modo per fare tabula rasa dell'Andrangheta è ancora prima delle sentenze, ancora più delle confische, il totale disprezzo sociale, l'isolamento sociale.